Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Già nella giornata di ieri il Ministero dei Trasporti aveva in qualche modo anticipato il Consiglio dei Ministri perché il Vicepremiere e il Ministro Salvini aveva già stabilito uno stanziamento di 1,7 milioni su alcuni comuni e 1,3 milioni per ristrutturare la parte strutturale delle forze dell'ordine nell'area dell'Emilia-Romagna con un'interlocuzione con i sindaci. Oggi è annunciato che il Consiglio dei Ministri inizierà con uno stanziamento di 150 milioni e con altre misure, quindi la possibilità di sospendere le tassazioni fino a novembre, la CIGA 60 giorni per l'agricoltura e ci saranno altri Consigli dei Ministri sullo stanziamento delle risorse. Le risorse sono sicuramente un tema fondamentale, non è neanche necessaria una veicolazione al PNRR perché per esempio questi 150 milioni verranno presi dal fondo di emergenza. Però il tema in questo Paese non è tanto e soltanto delle risorse, ma è di spenderle. Perché sono molto d'accordo quando si dice che la politica sta dando e continua a dare prova di maturità, perché è vero, bisogna dare prova di maturità e coesione come è stato fatto in questi giorni, però non è che non si può neanche far finta di vedere o magari valutare se poi qualche cosa possa essere stato fatto male in passato. perché per esempio risorse alle regioni, alle regioni Emilia Romagna in passato per la messa a posto dei fiumi furono stanziati, mi pare ci sia una decisione della Corte dei Conti che poi invece ha stabilito la restituzione di questi fondi perché non furono spesi nel decennio, non si sa le responsabilità, la regione disse che è una questione di impossibilità di spesa rispetto al patto di stabilità. Non entro nel merito, non sto puntando il dito, non è il momento di puntare il dito, però sicuramente bisogna fare una riflessione sulla spesa. Non a caso lo stesso Ministero dei Trasporti proporrà in CDM delle misure, le hanno chiamate lavori veloci, delle misure che applicabili da nord a sud, ma in special modo sull'Emilia Romagna, prendendo spunto dal codice degli appalti nuovo, trovino delle modalità per cui effettivamente poi le risorse cadano a terra, Cioè per velocizzare i cantieri, perché questo è il vero tema, anche quando si fece la cosiddetta unità di crisi, di cui in questi giorni si parla, Renzi dice, io feci, ma in realtà in Italia non è un problema di unità o di enti, tant'è che lo stesso Renzi stanzia 8 miliardi e poi riuscì a spenderne uno. Qua il problema è che ci sono troppi livelli autorizzativi di troppi enti concorrenti che spesso non sono vero controllo, ma poi determinano dei blocchi. E voi intervenrete su questa giungla di enti? C'è già, ripeto, il nuovo codice degli appalti, ma soprattutto glielo ho detto, verrà proposto dal ministro Matteo Salvini un iter accelerato per i cantieri in questo momento, Emilia Romagna, dobbiamo intervenire subito, perché non è che possiamo aspettare che si ricostruiscano le infrastrutture o che si venga incontro per ricostruire un frutteto, ci vogliono 4 anni, bisogna fare in modo di non paralizzare l'attività, già oggi sono stimati miliardi di euro sull'agricoltura, bisogna iniziare a intervenire subito, perché se ci vuoi ci sono le risorse, non c'è una caduta a terra in velocità, altro che la ciga a 60 giorni. E' quello che ovviamente da Bonaccini in testa chiede.